Amici di Voci del Cilento, ben trovati all'appuntamento con l'informazione dalla Valle del Calore e dalla zona degli Alburni. In primo piano naturalmente ancora l'emergenza coronavirus e come stiamo facendo ormai da qualche settimana, facciamo sintesi rispetto alle iniziative legate all'emergenza promosse sul territorio. Partiamo da Roccadaspide e parliamo del carrello solidale. Il difficile momento che stiamo vivendo impone a ciascuno di noi di fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per contribuire a limitare i disagi delle persone che vivono le maggiori difficoltà. Inizia con questo messaggio la nota con la quale il sindaco di Roccadaspide Gabriele Iuliano ha presentato l'iniziativa solidale promossa dall'amministrazione comunale a favore delle persone meno abbienti che in questo drammatico momento di emergenza avvertono più forti e drammatiche le conseguenze dell'emergenza stessa. Per cercare di fronteggiare, di dare un contributo in questa difficile condizione si è pensato di costruire una rete di solidarietà che possa contribuire a dare un aiuto concreto alle famiglie più bisognose così che possano superare dignitosamente questo momento di grande difficoltà attivando l'iniziativa già sperimentata in altri comuni italiani ed anche salernitani denominata carrello solidale. In pratica chiunque si rechi a fare la spesa presso uno dei centri alimentari che hanno aderito all'iniziativa potrà acquistare qualche bene di prima necessità e in più rispetto alle sue esigenze e da lasciare poi in donazione nel carrello solidale che si trova all'ingresso dei punti vendita aderenti. I beni raccolti quindi saranno distribuiti in pacchi alle famiglie e alle persone bisognose che ne facciano richiesta a cura dei servizi sociali comunali e della protezione civile mediante la consegna a casa di ciascun richiedente che si trovi nella condizione di necessità e difficoltà. Cambiamo argomento ed anche comune, siamo in questo caso a Roscinio perché dopo lunghe battaglie per la riapertura di alcune strade importanti nelle aree più interne del nostro territorio accade in questa emergenza che la chiusura di alcune strade possa rappresentare quasi una fortuna per favorire i controlli sul territorio legati all'emergenza Covid-19. Il comune di Roscinio che come sapete perché abbiamo spesso raccontato da anni è in prima linea per garantire il diritto ad una viabilità sicura per limitare il diffondersi dell'epidemia da coronavirus sul territorio comunale ritenendo necessario porre in essere misure idonee proporzionate all'evolversi della situazione ha adottato un provvedimento che chiude alcune strade locali. È stata dunque disposta con ordinanza del primo cittadino Pino Palmieri la chiusura sia veicolare che pedonale della SP 342 Roscinio-Sacco ed è la stessa strada che collega Roscinio con il bivio di Corletto-Monforte quindi l'unica strada di accesso in queste settimane al comune di Roscinio è appunto rappresentata dalla provinciale 186 Bello Sguardo-Roscinio che peraltro viene presidiata da personale autorizzato per effettuare controlli relativi agli accessi il sindaco Palmieri annuncia peraltro che i controlli saranno effettuati H24 da parte della Polizia Municipale per garantire naturalmente il rispetto dell'ordinanza l'obiettivo è la salvaguardia della salute pubblica dei cittadini del proprio comune e del contenimento della diffusione del Covid-19 naturalmente il provvedimento ha suscitato diverse polemiche. Il comune di Piaggine ha consegnato al reparto di rianimazione dell'ospedale di Rocca d'Aspide l'emo gas analizzatore portatile che l'ente ha fornito dopo la considerazione espressa dalla regione Campania nelle scorse settimane sulla carenza di attrezzature mediche utili per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Il comune retto da Guglielmo Vairo dunque ha effettuato la donazione di concerto con l'associazione Ollus Soccorso Sociale il prezioso macchinario darà la possibilità al personale sanitario di esaminare il sangue arterioso e valutare così la respirazione del paziente restituendo il valore reale dell'ossigeno nel sangue sarà possibile effettuare un prelievo di sangue più volte al giorno per avere un maggior numero di valori di riferimento complimenti naturalmente all'amministrazione comunale di Piaggine e all'associazione. Aiutaci ad aiutarti è lo slogan della raccolta fondi promossa dal comune di Aquara a favore della protezione civile. Fin dall'inizio dell'emergenza epidemiologica del virus Covid-19 lo slancio solidale è stato molto forte ricordano dal comune esprimendo anche in questa occasione la fiducia nel buon cuore dei cittadini che sicuramente come fatto finora non faranno mancare il proprio sostegno. Del resto insomma tutti sono consapevoli dell'importanza del ruolo dei volontari della protezione civile che pur nella complessità del momento e con la tensione che come possiamo immaginare deriva dall'emergenza in atto non smettono di dare un importante contributo nel ridurre i disagi della popolazione. Dunque naturalmente ringraziamento a tutti i volontari della protezione civile non solo di Aquara ma di tutto il territorio. Restiamo ad Aquara per ricordare che in questi giorni il comune è impegnato a consegnare i primi aiuti alle persone maggiormente in difficoltà a causa dell'emergenza ancora naturalmente con il prezioso contributo dei volontari della protezione civile ed anche con la responsabile del centro operativo comunale per i servizi sociali. Sono già state consegnate le prime mille mascherine ma chi ne è sprovvisto può contattare il comune e potrà ricevere la consegna a domicilio. Il comune ha anche attivato il servizio di stampa del materiale didattico per bambini e ragazzi alle prese come sapete con la didattica a distanza. Su richiesta dei genitori o dei rappresentanti sarà stampato e consegnato dai volontari della protezione civile presso le abitazioni dei richiedenti il materiale naturalmente utile per svolgere ancora la didattica a distanza. Restiamo ad Aquara. Metti il cuore per un aiuto concreto è lo slogan dell'iniziativa promossa a favore delle persone che hanno difficoltà economiche accentuate naturalmente dall'emergenza sanitaria in atto. L'amministrazione dunque ha promosso il servizio denominato la spesa a sospesa grazie alla quale i cittadini che si recano presso gli esercizi commerciali possono appunto fare in modo come altrove che parte della propria spesa va dalle persone in difficoltà. Si tratta di una forma di aiuto che insomma coinvolge tutti i cittadini che in realtà già stanno dando un importante contributo. I generi di prima necessità raccolti saranno ritirati dal comune con la responsabile del COC per i servizi sociali e distribuiti a cura dei volontari della protezione civile appunto ai cittadini che ne abbiano necessità. Da Aquara ci spostiamo adottati perché nell'emergenza coronavirus naturalmente non va dimenticato il disagio di tanti bambini che sono a casa spesso si annoiano, non possono uscire di casa e allora l'assessorato alla cultura del comune di Ottati ha ideato un concorso un concorso di disegno dai sfogo alla tua fantasia per superare questo difficile momento questo è il messaggio che l'amministrazione ha voluto lanciare su Facebook invitando i ragazzi ad aderire all'iniziativa dunque per partecipare occorre inviare una foto di un disegno fatto dai ragazzi indicando nome, cognome e classe sul tema andrà tutto bene entro il 13 aprile all'indirizzo comuneottati.gmail.com poi dal 14 al 19 aprile sarà possibile votare i lavori dei partecipanti con un like sulla pagina Facebook del comune quando tutto sarà finito annunciano poi dal comune sarà organizzata una bellissima cerimonia di premiazione per tutti i partecipanti anche il comune di Castel San Lorenzo ha promosso il carrello solidale l'iniziativa che naturalmente pone attenzione alla parte più vulnerabile della popolazione contribuendo ad arginare i disagi si può contribuire lasciando un genere di prima necessità ai negozi presso i quali si va a fare la spesa il carrello solidale si trova vicino alla cassa di ogni negozio aderente all'iniziativa solidale coloro che in questo momento particolare si trovano in difficoltà e danno bisogno di un piccolo aiuto possono telefonare al numero 333 85 36 728 il tutto sarà consegnato a domicilio con estrema discrezione naturalmente e sarà il comune ad occuparsi di gestire le consegne alle persone che ne faranno richiesta in questo particolare momento si legge in una nota del comune chi può non indugi e testimoni lo spirito autentico di comunità che ci ha sempre contraddistinto dobbiamo dire che anche qui come altrove i cittadini hanno dato un ottimo contributo a loro naturalmente il grazie a nome dell'amministrazione a nome naturalmente di chi poi beneficerà di questo contributo un'ultima notizia da serre stop ai conferimenti di rifiuti all'isola ecologica lo ha disposto l'amministrazione in considerazione del perdurare delle prescrizioni e delle restrizioni adottate dalla presidenza del consiglio dei ministri dunque l'isola ecologica nell'area pip rimarrà chiusa ma continuerà ad essere garantito il servizio di prelievo porta a porta dei rifiuti e con questo ci fermiamo io naturalmente vi invito a segnalarci altre iniziative al nostro indirizzo infochiocciola voci dal cilento punto it vi invito a seguirci sempre sul nostro sito voci dal cilento punto it ma anche attraverso i social e su youtube grazie per l'attenzione a presto grazie per la visione